Buonasera, benvenuti a tutti quanti al Fest Intermezzo, la versione online ridotta del Festival di letteratura italiana qui a Monaco di Baviera e che quest'anno, come tutti sapete, può avere luogo soltanto in questa forma. Abbiamo con noi Ijabascego ed Enrico Manera e parleremo del nuovo libro di Ijabascego, La linea del colore. Ijabascego è nata a Roma e dopo i primi racconti pubblicati nel volume Pecore Nere dalla Terza ha pubblicato vari romanzi, Oltre Babilonia, La mia casa dove sono, con la quale ci siamo conosciuti, Roma negata, un romanzo, Adua e adesso appunto La linea del colore. Benvenuti a Ijabascego. Salve a tutti e tutte. Nel settembre di quest'anno è uscita in tedesco questa antologia, Dismatria, un weitere text, pubblicata da non solo Ferlag, nella traduzione di Ruth Maeta Koldai. È una mini-antologia, sono due racconti e un articolo tratto dalla rivista internazionale per la quale Ijabascego scrive spesso, dal titolo Quando gli italiani non erano bianchi. È un'antologia che è uscita con l'intenzione di mettere in luce le tematiche di Ijabascego, tematiche femminili e sull'identità multiculturale, sulla elaborazione del postcolonialismo e sull'impegno internazionale sociale e pubblicistico di Ijabascego, come ha sottolineato nell'introduzione Marta Kleinheinz, che vedo ci sta seguendo. Proprio ieri sera è giunta la notizia che la casa editrice non solo Ferlag, la casa editrice che l'ha pubblicato, ha vinto il premio per la traduzione, il premio nazionale per la traduzione 2020, assegnato dal MIBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. È una piccola casa editrice di Friburgo che si dedica proprio alla traduzione di testi italiani, in particolare di autori recenti in tedesco, alcuni in tedesco oppure in edizioni anche bilingue. Ijabascego converserà con Enrico Manera, che è dottore di ricerca in filosofia, insegna in un liceo e conduce attività di ricerca e didattica presso l'Istoretto, che sarebbe l'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea di Torino. È autore di vari saggi, monografie e pubblica anche sulle riviste online 00 la storia tutta e novecento e i suoi studi girano intorno diciamo alle teorie e alla costruzione della memoria culturale, un ambito tra storia, antropologia e filosofia politica. Benvenuto Enrico. E cedo direttamente a te la parola a questo punto. Grazie allora, grazie Elisabetta, grazie a voi tutti per questo invito. È davvero per me un grande piacere essere con voi da Torino, con un pubblico che per me è nuovo, quindi davvero grazie ancora anche per la generosa presentazione. Mi è poi particolarmente caro essere qui a presentare il libro tedesco di Ijaba, ma anche a parlare in genere dei suoi libri, nel senso che ho avuto modo di conoscerla come studiosa e come scrittrice e ultimamente abbiamo lavorato insieme su alcuni progetti, una lunga conversazione su 00 che appunto avete citato voi, una rivista online molto letta in Italia e spero possa esserlo magari anche in Germania per il pubblico italofano, ma non solo, anche su altri progetti di educativa rispetto ai temi del colonialismo, della cittadinanza, delle migrazioni rispetto ai quali nelle scuole Ijaba è molto generosa. Ecco, io partirei proprio da qui, nel senso che Ijaba Scego si presenta appunto come quando viene descritta, è una scrittrice italo-somala, una studiosa attenta alle questioni post-coloniali del tema dell'identità. In realtà appunto lei si definisce italiana afrodiscendente, ma anche romana e in più ha molti tratti veneziani e ha diverse appartenenze. In più, se io guardo la sua produzione, penso al fatto che ha saputo raccontare un po' la storia della sua vita e della sua famiglia rispetto a una provenienza dalla Somalia in una famiglia di donne, ma poi ha scritto fiction storiche già come adua nell'edizione italiana che voi vedete, nel nuovo libro di cui parleremo più magari diffusamente, che è La linea del colore, insomma. Ma non solo, nel senso che è anche nota come pubblicista perché ha affrontato il tema del rimosso coloniale nella memoria pubblica che in Italia è stato e particolarmente incandescente e di attualità e penso alle polemiche sulle figure di Montanelli, penso al mausoleo infelice a Graziani nella città di Affile e a tutta una discussione sulla memoria della monumentalistica fascista che è già un primo problema in Italia e che diventa ulteriore nel momento in cui dimentica il colonialismo e quindi c'è una doppia rimozione, se volete. Fatemi ancora solo ricordare, prima di venire alla domanda, che comunque nella produzione di Jabba trovano posto anche un amore per la musica, quindi lei ha scritto anche una biografia di Caetano Veloso e lì viene fuori tutto un mondo tropicalista e un diverso modo di essere neri in Brasile, ma anche un racconto per bambini davvero bellissimo che io avevo già colto recensito anni fa, prestami le ali. Insomma è chiaro che quello che Jabba Ascego fa come scrittrice lo definirei un atelier con un alto tasso di impegno pedagogico e sensibilità sociale in cui utilizza diversi strumenti, una palette di colori molto molto ricca. Allora per venire alla prima domanda partirei proprio da Dismatria che è stato per l'appunto già citato. Questi tre racconti innanzitutto ti chiederei di ragionare sul senso della parola, cosa significa Dismatria, nel senso che non solo la parola patria in italiano viene declinata al femminile, ma c'è anche davanti il dis che evidentemente smonta ulteriormente a questa nozione di appartenenza al luogo. Dall'altra un altro dei racconti è quello che è stato già in qualche modo citato quando gli italiani non erano bianchi e lì si dice espressivamente che il bianco è un insieme di privilegi, non un colore ed è una costruzione sociale. Ora l'altra tesi che emerge è che il colonialismo quindi non sia mai finito davvero nella misura in cui il bianco è un insieme di privilegi. Quindi ti chiederei di ragionare innanzitutto su queste due questioni. Grazie. Allora buonasera a tutti e a tutti e insomma è appunto Enrico Stattolino, io sono a Roma, molti di voi saranno a Monaco o in altre parti della Germania o comunque dell'Europa perché ormai siamo un po' ovunque con il web, almeno riusciamo a incontrarci in questo modo. La domanda che mi ha fatto Enrico è molto complesso, io cercherò di rispondere a modo mio. Allora io sono molto contenta di questo libro in tedesco anche perché ho una grande stima per l'editrice che sta facendo un lavoro culturale in Germania, sta portando molti autori e molti scritti italiani in Germania e la cosa bella è che molto spesso riesco a allacciare una relazione con le scuole, no? Perché è una cosa che con il covid all'inizio del covid-19 e in qualche modo covid-19 è saltato, no? Io ho fatto sempre grandi laboratori nelle scuole e devo dire che ritornare anche se a distanza in scuola in Germania è una cosa che mi fa molto piacere, ci tenevo a dirla. Dismatria. Dismatria è stato scritto, proprio il racconto Dismatria è inserito in un'antologia dal titolo Pai Core Nere in un momento in cui la guerra civile somala era, mordeva molto ferocemente. La guerra civile somala è iniziata negli anni 90 e io ho capito che la nostra situazione, noi eravamo già rifugiati, io sono figlia di rifugiati che erano fuggiti dalla guerra, però è come se la nostra situazione di essere rifugiati in qualche modo fosse peggiorata, no? Cioè mentre i miei genitori negli anni 80 vedevano un ritorno possibile, tanto che ogni tanto c'erano dei progetti, no? Allora facciamo il cinema, mio padre voleva costruire un cinema in Somalia e perché comunque no? I somali hanno una vasta cultura cinematografica e c'erano tutti questi piccoli sogni che uno aveva, eri rifugiato però pensavi che il cordone non si era del tutto spezzato e in effetti potevi tornare, mio padre no, ma io sono potuta andare con mia madre a un certo punto e l'ho vista a Mogadiscio, questo è stato forse il dono più grande che mi ha dato il Signore perché effettivamente dopo Mogadiscio è stata distrutta, io sono andata tre volte quando ero piccola, poi a un certo punto sono rimasta a vivere là, almeno per più di un anno e mezzo, facevo la scuola dell'ambasciata e a un certo punto quando scoppia la guerra civile tu pensi, vabbè finisce l'anno prossimo, finisce da due anni, questa guerra è durata quasi trent'anni, fra un po' saranno trent'anni e capisci come il cordone umbilicale viene spezzato e tu sei oltre, sei qualcosa di oltre il rifugiato, sei qualcosa che non riescerà a collegarsi di nuovo, sei un dismatriato dalla tua madre terra, ecco perché avevo coniato quel vocabolo, perché io ho sempre visto anche matria è un concetto pericoloso, ci terrei a dirlo, patria, matria, sono concetti pericolosi, però nel racconto diventa una madre che ti manca, no? E io mi rifacevo una canzone somala che si chiama Hoyo Mahan, Hoyo nella lingua somala è madre, quindi mi rifaceva più quell'idea somala di madre che ti accoglie, di madre nazione che in qualche modo un po' sgangherata ma che riesce a tenere insieme tutte le sue parti e che però con la guerra civile è saltata e è un racconto di dolore, un racconto di chi vuole avere un armadio, io ho un armadio dietro enorme e finalmente un armadio, perché la protagonista del libro, del racconto che non sono io, nel libro vuole un armadio, vuole la stabilità, vuole la casa, mentre per la madre del racconto è tutto dentro le valigie, no? Perché c'è questo possibile ritorno che non arriva mai, era il mio modo un po' di raccontare e devo dire che sono molto contenta anche dell'abbinamento che abbiamo trovato, perché insieme a questo racconto c'è un racconto invece su Haile Selassie, l'imperatore d'Etiopia, ma in me è incolto in un momento molto particolare della sua vita, quando arriva in Italia, invitato da Aldo Moro, incontro a Pertini, incontro a Saragat e io ne avevo già parlato di questo viaggio in Romanicata, però sentivo che ne volevo parlare in modo più narrativo, perché mi aveva colpito in questo racconto di Haile Selassie che torna in Italia, del fatto che questo imperatore torna nel paese che lo ha invaso e il paese che lo ha invaso in qualche modo ha dimenticato di averlo fatto, però non tutti lo hanno dimenticato e in effetti molta gente va e scende in piatto per vederlo e molti per ricordarsi della loro giovinezza, per vederlo per la prima volta, perché io dico sempre c'è stato il colonialismo, ma gli italiani sono stati colonizzati dalla propaganda coloniale, quindi moltissimi sono usciti fuori perché volevano vedere l'uomo che era dentro le canzoni di cui parlava la propaganda e non si capacitavano che era così basso, dicevano davvero basso e altri invece è questo che mi ha colpito più di tutti per chiedergli scusa, c'erano molti italiani, infatti anche secondo me la narrazione sugli italiani in colonia e gli italiani davanti al coloniale dovrebbe un po' cambiare, perché c'è chi ha rimosso e chi non ha rimosso, perché c'è chi non ha rimosso, chi si è voluto ricordare, io ho incontrato quando presentavo il libro Roma Negata, tanti italiani che mi dicevano, io sai ho preso il treno per andare a vedere Hele Selassie e chiedergli scusa, c'è un gatto che bello e questa cosa mi ha molto colpito, come mi ha molto colpito ad Orvieto un uomo e da lì che nasce il racconto che va con un'icona che lui aveva preso in Etiopia e dice a Hele Selassie, le lo dice in Amarico, questa icona non mi appartiene, è tua e te la devo restituire, praticamente quest'uomo di Orvieto fa una cosa che lo Stato italiano non fa per anni, cioè restituire i bottini di guerra, che non era solo la stelle di Axum, era anche un leone che per anni e anni è stato davanti alla stelle di Dogali, quindi a me ha colpito questa parte di italianità perché una cosa su cui ho anche lavorato sulla linea del colore è che insieme ai colonizzatori ci sono stati anche quelli che hanno detto no, ma che hanno detto no all'epoca, quindi Ulisse Barbieri nel mio libro che è poi la copia di un Ulisse Barbieri realmente esistito, realmente anarchico e realmente anticolonialista e anche tutte queste persone che sono andate a vedere questo imperatore e a chiedergli scusa, quindi a me ha colpito questa cosa e volevo raccontarla perché, e mi taccio subito, dico solo quest'ultima cosa, perché è necessario vedere, come lo ha fatto per esempio Francesca Melandri in Sangue Giusto, vedere la storia coloniale nella sua ambiguità e nella sua complessità, a me preoccupa sempre quando facciamo una specie di gara a buoni e cattivi perché non è tanto così, lo posso testimoniare, io sono nei racconti di famiglia so che ho avuto in famiglia Ascari, Dubat, gente che sono andati a fare le guerre coloniali per gli italiani in Etiopia o per esempio mio nonno era interprete di Ridolfo Graziani, non proprio una bella persona, quindi tecnicamente in ogni famiglia, in ogni situazione, in ogni storia c'è una parte oscura e secondo me se vogliamo capire quello che è successo, dobbiamo esaminare tutto il quadro, perché le violenze sono state tante, i popoli hanno sofferto, però c'è una parte di quei popoli che ha anche collaborato e a me interessa perché appunto io sono figlia di quel colonialismo in un certo senso, sono qui perché i miei genitori sono venuti in Italia, non a caso, era un paese che conoscevano. Certo, mi colpisce come effettivamente, come hai ben detto, tutti i tuoi personaggi rientrino un po' nel concetto di zona grigia, insomma il concetto che Primo Levi aveva applicato in un altro contesto, ma proprio rispetto a questa questione delle sfumature e quindi evitare ogni posizione manichea, così come anche una contraposizione così netta tra il bianco e il nero per l'appunto. I luoghi ad esempio, tu hai citato, l'abbiamo anche citato prima, Roma negata, è un libro fotografico oltretutto fatto con Rino Bianchi in cui tu vai a scoprire i luoghi del colonialismo romano attraverso i simboli rimasti e si va a ragionare sul fatto come spesso i luoghi non parlino più e quindi tanti termini che hanno a che fare, ma questo vale per tutta la toponomastica italiana, si perde completamente il significato del nome di una piazza, di una via o di un cinema impero o di tante cose che rimanevano. Questo poi oltretutto fa anche da contraltare rispetto a un'altra riflessione che tu fai sui luoghi, quindi non solo i luoghi vanno scoperti, ma forse ci vuole anche, tu dici, una monumentistica riparativa, un altro racconto dei luoghi che possa affiancare i monumenti più che abbatterli e quindi reinserirli in una cornice diversa, proprio perché abbattono un monumento forse è anche rischioso nella misura in cui distruggi qualcosa di cui non rimane più memoria e quindi in qualche modo ne agevoli la sua rimozione. Penso che sia un discorso molto interessante perché questo per quanto riguarda l'architettura tedesca è evidente che c'è tutta una questione importantissima su come è stato rivalutato il patrimonio o come gli spazi urbanistici siano stati decisivi. Ma ti chiederei di ragionare su questo, a partire da Roma negata, a che significato hanno i luoghi? Che forse sono l'equivalente materiale della zona grigia, mi viene da dire. Allora, mi sentite sì, e praticamente io mentre parlo vi faccio anche vedere le foto di Rino Bianchi perché sono state foto che abbiamo voluto concertare insieme, no? Ed è anche, non è ovvio aver fatto queste foto e aver fatto questo testo perché praticamente la cosa che volevamo, questo libro è del 2014, in qualche modo anche un po' siamo stati un po' profeti, un po' anticipatori di tutto il discorso che è scoppiato poi con i movimenti di Black Life Matter, no? Ed è la cosa che volevamo fare, era anche una collaborazione tra una donna nera che è italiana, romana, ma una donna nera che ha avuto gli antenati che hanno vissuto, e non solo gli antenati, mio padre che ha vissuto gli anni del colonialismo italiano, è un uomo bianco che sicuramente non ha avuto in famiglia colonizzatori, ma come italiano effettivamente aveva partecipato di quella storia, no? E quindi volevamo fare una sorta di collaborazione e cambiare anche la visuale del modo di fare le foto, non foto che ti inferiorizzavano, ma foto che ti elevavano in qualche modo, o comunque molto molto intense. Lui per esempio è padre Musi e Zerai e noi abbiamo usato tantissime persone che conoscevamo che erano originarie del corno d'Africa, o comunque se non originari proprio venivano dal corno d'Africa. E il discorso sulle statue e sulle tracce a me ha interessato sempre moltissimo, perché quelle tracce raccontano una storia comune, soprattutto a Roma e soprattutto in Italia, dove la storia coloniale era stata dimenticata, io passavo per Piazza dei Cinquecento, passavo davanti all'obelisco di Axum quando ancora c'era e mi chiedevo perché la gente non ne sapesse niente, no? Quella rimozione è una rimozione sia dall'alto ma sia delle famiglie che hanno nascosto ai propri parenti cosa avevano fatto in Africa orientale. Quello che dice Flaiano, se nessuno ci cerca per questi delitti che abbiamo commesso, lo dice in tempo di uccidere, lo fa dire al suo tenente che si è immacchiato di crimini e dice vabbè se nessuno ci cerca possiamo andarcene, no? E in realtà io penso sempre, e ritorno all'armadio, dobbiamo aprire gli armadi di famiglia, dobbiamo aprire gli scaffali, frugare nei cassetti, perché questa storia è una storia anche familiare, a me ed è in quanto familiare è anche una storia delle nostre città, quindi nelle nostre case, nelle nostre città c'è il riverbero di questa storia e a me colpiva molto la non conoscenza, quindi abbiamo cominciato a girare per Roma e abbiamo visto che le tracce sono tante, questo per esempio è il Ponte Duca d'Aosta, questo è il Viale Somale con Zara, questa è la stella di Dogali, la Società Geografica Italiana, l'Isiao, questa foto mi piace in modo particolare perché sono dei ragazzi rifugiati al Vittoriano, no? Che era usato dalla, diciamo, dalla ritualità di regime e la cosa che poi ho capito nel tempo è che dipende dalle statue, dalle statue, dalle tracce, dai monumenti, dalla tiponomastica, dipende da cosa sono per capire cosa fare, non per tutti vale la stessa ricetta, non possiamo dire rimuoviamo tutto o conserviamo tutto, a me la cosa che colpisce è questo, per esempio negli Stati Uniti quando hanno chiesto la rimozione di alcune statue di alcuni confederati è chiaro che lì alcune statue dovevano essere rimosse perché erano statue fatte nel 1950 a sfregio della comunità afroamericana, non erano statue stracce storiche, no? Portavano con sé proprio lo sfregio del suprematista contro le minoranze, contro soprattutto gli afroamericani in un momento in cui gli afroamericani portavano dietro sulle spalle la storia della schiavitù, dei linciaggi, delle segregazioni razziali e oggi delle esecuzioni sommarie, no? Vediamo, sappiamo qual è la lista del dolore, Breonna Taylor, George Floyd, Trevor Martin, Eric Garner e loro, questa rimozione è in qualche modo qualcosa che il territorio ha elaborato, che ha portato a delle discussioni. E' diverso il caso italiano, secondo me, perché comunque sono tracce ormai di tantissimi anni fa e secondo me in un paese che dimentica come il nostro, forse rimuovere non è proprio la soluzione. Secondo me, rilavorare sulle tracce, rimetterle in circolo, far capire che cosa sono. Per esempio, a Roma nessuno, vi faccio vedere la foto di Piazza dei Cinquecento, a Roma nessuno sa che questa piazza è piena di autobus, si chiama Piazza dei Cinquecento per la battaglia di Dogali, no? E c'è un monumento lì vicino che è una stele. Ecco, spiegarlo, portare le scolareste, cercare di fare entrare questa storia in una coscienza mainstream per capire che questo colonialismo non solo c'è stato, ma le sue lacerazioni ci sono ancora. E vi faccio un esempio sulla lacerazione. Avete sentito di quel bambino di sei mesi morto nel Mar Mediterraneo? Joseph o Yusuf l'hanno chiamato in due modi diversi. Di quella madre, no? Che si rotolava, che stava male, che aveva perso il suo bambino, l'ha detta I've lost my baby, no? In mare aperto. Allora, noi dobbiamo concentrarci su dove la madre veniva. La mamma di questo bambino e il bambino venivano dalla Guinea. Questo significa Guinea che ha sofferto per la tratta atlantica, Guinea che ha sofferto per il colonialismo, Guinea che oggi soffre perché molti giovani vanno via dalla Guinea impoverita. È un paese in cui il colonialismo non è mai finito, no? E quel dolore è ancora presente. Oggi non ci sono le navi negriere. Chiaramente io non faccio la comparazione navi negriere e barconi. Mi raccomando, non dobbiamo fare la comparazione, ma dobbiamo capire che il dolore è il dolore di quegli antenati che sono stati portati in ceppi, di quel territorio che è stato impoverito perché una cosa di cui non si parla sono le riparazioni che prima o poi l'Europa dovrà dare all'Africa e di quella donna che è il simbolo di un dolore lungo 400 anni. Ecco perché secondo me parlare di queste tracce ci può far parlare del presente. Non è un vezzo storico, è qualcosa che urla nel nostro presente. Ecco perché io dedico molto tempo alle tracce urbane, le metto in circolo, perché in qualche modo dobbiamo sapere, perché se non sappiamo dimentichiamo e se dimentichiamo l'orrore continua. Quindi per me è molto importante questo, non dimenticare. Scusate, ho una gatta molto importante che non accetta di stare chiusa nell'altra stanza e ogni tanto passa davanti allo schermo. Ma a questo punto, ecco, abbiamo già citato La linea del colore, il tuo libro più recente uscito in Italia. Uno dei brani, insomma, di questa storia che ad esempio più mi ha colpito e che ha i tratti lirici più evidenti è proprio quella di una traversata dell'oceano in cui a un certo punto la protagonista che sta attraversando in senso contrario dall'America per andare finalmente in Europa, in Italia, sente le voci in qualche modo dei fantasmi di questa tratta. È molto interessante proprio perché tu riesci a spostare sempre contro ogni stereotipo anche le narrazioni. Quindi La linea del dolore direi che non è tanto radici quanto un romanzo di Jane Austen ed è un romanzo vittoriano, quindi black ma al femminile che incrocia, insomma, diverse altre storie nel senso che la protagonista nasce in un posto infelice degli Stati Uniti vive delle vicende di violenza inenarrabile collegate alla povertà, alla schiavitù in un contesto di subalternità e di marginalità riesce attraverso un percorso di adozione ad arrivare addirittura in Europa e finirà poi in Italia attraverso un grand tour che la vede essere una pittrice è una pittrice, una strana donna nera che dipinge nella Roma di fine secolo e quindi segui tutte le vicende di questa Lafano Brown Allora, la prima osservazione che faccio è che è un piccolo capolavoro applicato se mi consenti di intersezionalità perché vediamo il sovrapporsi di discriminazioni e oppressioni di vario tipo che riguardano diverse identità sociali ci ho detto, come dire, è un romanzo e quindi noi la vediamo vivere e quindi la domanda che voglio farti è parlaci di questa Lafano non so, ti chiedo perché hai scelto dove l'hai incontrata o meglio, com'è che lei ha scelto te e ti ha incontrato? Allora, vi farò vedere anche delle immagini anche qui la cosa che io tengo molto a questo libro ci ho messo tre anni tre anni anche non facili della mia vita perché comunque sono stati anni di perdite per mio padre anni anche di dolore, di fatica mio fratello ha avuto il cancro quindi questo libro è stato veramente la mia cura perché in qualche modo mi ha aiutato in queste fasi difficili di vita personale ma anche in un momento in cui comunque avevo necessità di raccontare un dolore che non era solo personale era invece il nostro dolore collettivo quello che succede nel Mar Mediterraneo perché per me è l'ossessione cioè il fatto di vedere le persone morire ogni giorno dal bambino piccolo all'anziano alla donna all'uomo allo studente a quello che vuole diventare al calciatore solo perché non c'è il viaggio illegale solo perché all'Africa è impedito il viaggio è qualcosa che mi fa troppo male allora a un certo punto ho cercato di pensare come raccontare una storia così in un momento in cui si è persa completamente l'empatia verso l'altro verso soprattutto chi viene con questi viaggi e anche spiegare qual è il nodo del viaggio però io non sono un politico sono una romanziera come farlo con la letteratura e quindi avevo veramente tantissime domande e a un certo punto ve la faccio vedere e poi vi spiego anche queste altre queste ho incontrato due donne una è lei Edmonia Lewis una scultrice che ha vissuto a Roma a metà del XIX secolo e non è morta a Roma queste sono le sue sculture erano le scultrici neoclassiche però le sue sculture un po' tradivano non tanto nel marmo che usava e che componeva ma quanto nelle tematiche perché qui vediamo Agar che era una schiava e Cleopatra insomma già ci fa capire la sua ricerca di che tipo era e poi Sara Parker Raymond lei è sevolta a Roma alla Cattolico Ostiense è attivista e in Italia quando arriva in Italia è sempre a metà dell'Ottocento diventa ostetrica e a Firenze a 50 anni sposa un sardo mentre Edmonia Lewis probabilmente era lesbica quindi avevano delle vite veramente complesse a metà dell'Ottocento e soprattutto a Roma questa cosa mi ha molto colpito ed erano due donne che hanno viaggiato allora io non volevo scrivere la loro biografia volevo però avere in qualche modo un modello in loro per me sono state veramente donne molto importanti però ho creato un personaggio la Fanu Brown che mette al centro non soltanto le sue vicissitudini private ma anche il desiderio del viaggio cioè lei il viaggio lo assapora ancora prima di venire in Italia l'Italia ha una doppia valenza per lei è la terra in cui può sentirsi libera e può sentirsi se stessa può realizzarsi grazie anche alle evolizioniste con cui ha un rapporto complicato perché poi io ho cercato di fare tutte le sfumature del nero ma anche tutte le sfumature del bianco in questo libro c'è molto l'appartenenza di classe perché senza classe non capisci come va il mondo effettivamente e quindi l'Italia come salvezza ma come anche salvezza fisica questo lo dice anche James Baldwin di se stesso cioè lui va in Francia per pensare all'America però doveva prima salvare la pelle proprio tecnicamente la sua carne perché in America negli Stati Uniti la paura di perdere il corpo è qualcosa di tangibile per gli afroamericani infatti entrambe le donne sia Sarah Parker sia Edmonia Lewis soffrono un'aggressione pesante negli Stati Uniti quindi diciamo viaggio come salvezza ma anche un viaggio in cui questa Italia è qualcosa che la collega al suo lavoro la pittura io ho cercato anche nell'ambito del Grand Tour di unire di inserire un personaggio nero in un Grand Tour in cui personaggi neri non erano contemplati non erano contemplati anche la working class non era contemplata era un viaggio aristocratico un viaggio borghese insieme a questo viaggio della mia protagonista di La Fanu Brown e accanto c'è il viaggio di Binti che è una di oggi del contemporaneo una giovane donna somala che vorebbe fare la fumettista che vuole venire in Italia e lo dice alla cugina che non conosce conosce soltanto virtualmente la cugina è una sorta di ponte tra l'ela tra passato e presente però quello che volevo spiegare con Binti e in fondo anche con La Fanu Brown è che il nodo del viaggio è il fatto che dall'Africa oggi non si può venire in maniera illegale quando negli anni 70 si poteva venire i miei genitori sono venuti con l'aereo non sono venuti con la barca e lo stesso tantissimi parenti io a un certo punto della mia vita ho cominciato a vedere i parenti non venire più con l'aereo ma con la barca sentire di persone morte proprio della famiglia nei barconi cioè è questa cosa che è cambiata dall'89 in poi è caduto il muro di Berlino e questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita ma non ci siamo accorti che un altro muro stava risalendo e quindi io ho cercato di costruire questo romanzo mettendo tante cose insieme troverete per esempio l'occhio di La Fanu Brown per esempio sull'Italia questo è il Portogallo in realtà questo è un quadro portoghese sul quartiere dell'Alfa ma vedete quanti personaggi neri nel Cinquecento questo invece è un quadro italiano Carpaccio con il suo gondoliere nero e quindi la cosa che io faccio scoprire alla Fanu è questa Black Italy perché lei si era formata un'idea d'Italia leggendo testi canonici come Corinna e l'Italia di Madame de Stel che sono anche testi leggermente razzisti non so se l'avete mai letto contro gli italiani perché una cosa che ho scoperto nel Grand Tour e che ho cercato di mettere nel libro è come chi faceva questi viaggi amava i ruderi amava i ruderi dell'Italia amava non so il Colosseo quanto Piazza della Signoria ma per carità gli italiani no no e questa cosa infatti Corinna lei non poteva sposare il bellissimo scozzese il gentiluomo perché era mezza italiana è meglio che muore infatti Corinna muore alla fine del libro e quindi io volevo una donna che si è formata su questi testi canonici sull'Italia però poi quando ci arriva vede altre cose e vede soprattutto questo vede Lorenzo Lotto che è un bellissimo quadro che si trova a Iesi però vede soprattutto questa cosa qui e questa ve la devo far vedere perché noi abbiamo inserito alla fine del libro sempre Rino Bianchi che mi accompagna e delle foto per far capire cosa ha visto la Fanu Brown questa è una la famosa fontana dei mori di quattro mori di Marino c'è un altro quattro mori anche a Livorno sono quattro mori incatenati quattro non solo africani ce n'è uno quello sotto che assomiglia a Gali dico sempre che effettivamente turchi arabi nord africani e africani subsahariani invece qui troviamo due uomini e due donne incatenate questa è una fontana molto conosciuta nel Lazio e nella mia regione perché è la fontana che nella canzone romanesca dà il vino infatti durante la sagra è così ci sono questi tubi c'è la gente e c'è l'uva perché dà il vino appunto quindi in un certo senso c'è tutto questo giocare su questa fontana che diventa in qualche modo un perno perno della situazione io c'hai un'altra domanda sulla linea del colore se no parlavo anche dell'inizio però dimmi tu prima in realtà appunto quello a cui stavo pensando è importante sottolineare appunto che la linea del colore non è soltanto evidentemente il colore della pelle ma è anche la dimensione espressiva che permette alla tua protagonista alle tue protagoniste di avere occhi nuovi per guardare il mondo che attraversavano ogni giorno questa è una citazione insomma una tua frase e rappresenta appunto anche di quando lei attraverso la pittura supera il trauma dall'altro lato c'è proprio anche l'idea molto forte che io trovo che sia molto interessante che la tua protagonista fa vedere l'Italia agli italiani proprio in altro modo nel senso che nel raccontare quella Roma con gli occhi di una strana nera che dipinge viene fuori anche un invito al modo in cui un non nato in Italia vede l'Italia e magari la ama oggi quindi è interessante questo continuo gioco l'arte veramente come risorsa e qua tu parli evidentemente anche di come tante volte l'Italia è stata raccontata anche come stereotipo giustamente come dicevi prima dimenticando appunto che l'Italia non è un'isola del resto del mondo ma è stata al centro del Mediterraneo e dimenticando le mille contaminazioni e le scambi e le conquiste che hanno creato la geografia umana insomma quello che viene fuori io credo è l'idea di un nuovo racconto dell'Italia forse da costruire in cui probabilmente è interessante pensare che il pubblico con cui noi ci stiamo in qualche modo interfacciando sia un pubblico tedesco quindi vede l'Italia in modo diverso da come la viviamo magari io e te che viviamo poi in due città diversissime come Torino e Roma benché se poi io vado in barriera di Milano che è un nome di un quartiere di Torino che assomiglia molto a Roma ci siano determinate caratteristiche oppure penso a Piazza Vittorio che paradossalmente era il quartiere Sabaudo il quartiere amministrativo dei Piemontesi a Roma ed è poi diventato invece il quartiere più mondialista quindi è evidente che il tuo lavoro in qualche modo frantuma tutti gli stereotipi ti chiederei proprio di ragionare banalmente insomma non banalmente ma brevemente su questo e intanto credo che sia già giunto il momento di invitare gli ascoltatori a fare delle domande nel senso che voi potete chiedere evidentemente ai Jabba Shego delle cose attraverso la chat in modo tale che ci avviamo verso la conclusione di questo discorso allora io cercherò di dire una cosa che a cui tengo cioè io vi ho raccontato un po' la storia vi ho fatto vedere alcune delle fonti io ho lavorato molto sulle fonti tu prima avevi detto Jane Austen devo dire che Jane Austen mi ha aiutato molto perché io comunque ho una formazione nessuno lo sa ma molto ottocentesca cioè nel quando era appunto studentessa all'università io sono laureata in letteratura spagnola avevo lavorato molto sull'ottocento spagnolo che credo non conosca quasi nessuno però tecnicamente in Spagna sì e su libri come Fortunata e Jacinta di Galdosso o La regenta di Clarín eccetera e con il contempo avevo fatto tutti dei lavori proprio paralleli tra Spagna e il resto dell'ottocento europeo non solo e mi ero focalizzata molto su Harry James devo dire che questa cosa di Harry James ce l'ho in comune con James Baldwin James Baldwin un grande afroamericano a un certo punto lui rinnega il suo padre putativo che era Richard Wright un altro scrittore afroamericano e si prende come padre questo uomo bianco ottocentesco che è Harry James in qualche modo a me ha sempre colpito il racconto un po' cinico che ha dell'Italia Harry James e anche molto coloniale perché la sua la sua visione è quella del nuovo mondo dell'uomo nuovo che comunque vede l'Europa quasi come un suo oggetto in un certo senso però ecco ho studiato molto ho letto molta roba dell'ottocento molti autori molte la cosa che mi ha colpito sono proprio anche dei libri che uno non si sognerebbe mai come il fauno di marmo di Hawthorne che usavano all'epoca come Hawthorne è quello della lettera scarlatta ma l'ho scritto questo libro su Roma che veniva usato come guida cioè era un romanzo molto anche molto lento con questo sempre con questo personaggio italiano molto torbido tale Donatello però veniva usato come guida cioè andavano a vedere gli stessi posti o riconoscere gli stessi personaggi e la cosa che mi ha colpito mentre appunto studiavo e questo mi ha aiutato molto a scrivere il romanzo sono le donne vi faccio vedere la foto di questa scultrice che era amica di Edmonia Lewis Harriet Osper anche lei aveva una vita sessuale molto aperta e effettivamente loro tutte le donne che sono venute in Italia a fare le artiste erano donne che avevano più libertà avevano più libertà e questa è lei con i suoi lavoranti quindi c'è stato proprio un lavoro anche di immagini vi faccio vedere l'ultima immagine poi rispondo alle domande e queste foto qui mi hanno aiutato tantissimo vedere foto di donne afroamericane 800 inizio 900 perché mi ero accorta che non ne avevo nella mia nei miei occhi non c'erano queste foto nessuno aveva veramente raccontato queste donne quindi vedere queste foto cercare queste donne mi ha aiutato molto a parlare poi della mia la Fanu la Fanu Brown cioè io ne ho tantissime cioè questa è la copertina del libro che poi è un'artista afroamericana e quindi sì per me è stato anche un lavoro di scoperta di scoperta di tante cose che spero di essere riuscita a mettere tutto nel libro perché ho materiale per altri 3-4 libri sull'800 ma chissà quello che viene fuori effettivamente è che ci sia una grande ricerca da parte tua su fonti diverse che poi confluiscono felicemente in un racconto narrativo in cui io l'ho smontato perché di lavoro decostruisco i testi e conosco però voglio dire a qualsiasi lettore che è proprio un romanzo con dei bei personaggi dei bei personaggi femminili degli interessanti personaggi maschili anche per cui è interessante come ti confronti anche su un rapporto con una sessualità diversa una sessualità ottocentesca per certi versi con molto pudore perché il corpo come poi dicevi è al centro del racconto stavo notando che dentro la chat non sono arrivate le domande quindi abbiamo molti saluti dal lago di Costanza da Bong da Tubinga dal Canada insomma anche persone che parlano di una provenienza romana insomma scusa? abbiamo anche il gatto sì ve l'ho detto la mia gatta è molto presenzialista no al momento non ci sono domande per cui se ci sono se abbiamo ancora un po' di tempo chiedo anche a Francesco Elisabetta io vado tranquillamente avanti spero di non essermi perso evidentemente domande e questioni recentemente io e te ci siamo confrontati grazie siamo recentemente confrontati su un volume di storia profonda dell'Africa ed è un volume molto interessante perché in qualche modo racconta un'Africa antica e preistorica escludendo la parte moderna quindi il libro finisce sull'arco periodizzante quando inizia la colonizzazione quando inizia l'incontro con i portoghesi e quindi abbiamo ragionato molto sulla il libro che in Italia è stato tradotto dai naudi insomma di Fovelle che si chiama Africa antica un librone monumentale con una bellissima iconografia qua è molto interessante perché viene fuori un'Africa non solo archeologica o artistica ma un'Africa con una storia con una dinamica interna mi piace parlarne anche in questo ambiente con i germanofoni perché tra le mie specializzazioni c'è la conoscenza degli storici tedeschi di fine secolo e mi ha sempre colpito ad esempio una figura come quella di Leo Frobenius grandissimo africanista e germanista che poteva coniugare insieme un certo razzismo con un'idea dell'Africa come Africa primitiva originaria che in qualche modo fosse più vicina alla culture che non quella civilizzazione europea che si era insterilita qual è il rischio ovviamente Frobenius aveva dei limiti cercava Atlantide in Africa sostanzialmente e civiltà perdute insomma nella sua vicinanza col Kaiser e sul sostegno alla grande guerra ne facevano un grande nazionalista comunque il punto è un altro cioè l'Africa tante volte è uno stereotipo anche se vogliamo essere afrofili a volte rischiamo di creare di nuovo un cartonato forse la stessa nozione di Africa al singolare è sbagliato cioè forse non si può parlare né di Africa né di Europa ma forse bisognerebbe incominciare a dire sempre Afriche o il plurale di Europa che non saprei come dire no è complicato allora io prima dico una cosa di servizio vedo che mi state chiedendo dei contatti magari rispondo al circolo e tutto quanto quindi vi rispondo dopo e invece su quanto riguarda Fovelle per me è stato ci sono tanti libri molto importanti che stanno uscendo soprattutto in Francia ultimamente ma non solo anche in in Gran Bretagna penso a African Europeans The Untold History di Olivetto Tell per esempio e io devo dire che proprio per la mia identità che è tra Africa e Europa però la mia esperienza è completamente un'esperienza europea e direi afro-europea poi sai sulle etichette io non so veramente quale usare perché ogni tanto si alza qualcuno e dice no afro-italiano non va bene no italosomano non va bene quindi tecnicamente la tua complessità è a volte molto difficile da riassumere dentro una parola però ecco quello che a me colpisce è quanto servirebbe inserire nei curriculum curriculo scolastici la storia delle Afriche no perché la storia delle Afriche è comunque legata alla storia delle varie europee no e quindi per me questa cosa che non ci sia questa cosa qui in Italia ma anche altrove è un po' preoccupante poi per quanto riguarda proprio il libro di Fovell uno scopre tutta questa antichità no questi regni questa scrittura non soltanto l'oralità quindi scopri veramente tante cose e io da persona che conosce la Somalia ma non conosce l'Africa tutta è stata veramente una grande scoperta e aiuta un po' sprovincializzarsi un attimo rispetto a a quello che è la nozione di Africa e soprattutto ti permette ti permette di conoscere una cosa che non ti hanno mai insegnato no perché per me l'Africa è stata un'identità in qualche modo imposta e ogni volta ma anche adesso quando succede qualcosa in Mali quanto in Nigeria ti chiama qualcuno e dice ma puoi fare un'intervista su i riots in Nigeria e tu dici ma non sono nigeriana è un altro paese cioè è questo concetto che è un'altra cosa che Africa is not a country è importante da mettere a fuoco poi la cosa interessante che siamo riusciti a fare in questo dialogo sul doppio zero che io spero si trasformi in qualcos'altro in un libretto entri a scuola perché anche sul concetto sull'afrodiscendenza perché l'afrodiscendenza è qualcosa di veramente complicato non siamo tutti uguali abbiamo anche modi di porci davanti alla storia molto diverso io per esempio vedo tantissimi afrodiscendenza afrodiscendenti che vedono l'Africa con le stesse lenti coloniali che hanno nei loro paesi in cui sono nati francesi italiani inglesi cioè vedono l'Africa come se fosse una terra salvifica e primitiva non è così l'Africa è molto è un continente di città è un continente di campagne è un continente di classi sociali anche di feroce contestazioni politiche cioè è un continente vasto e anche noi figli di migranti che quell'Africa in qualche modo ce la portiamo sulla pelle e non sempre la sappiamo decodificare la novella ti spinge a approfondire a studiare quindi se se voi appunto cioè regalatevelo per Natale perché veramente è un libro importante un libro veramente veramente importante abbiamo ancora proprio pochi minuti prima che io passo la parola volevo solo ricordare brevissimamente il libro che ho citato prima Prestami Leali è un libro per bambini delizioso che io vorremmo consigliare non chiedo ai Giaba di parlarne perché siamo davvero in chiusura e quindi cedo poi subito dopo la parola a Elisabetta o a Francesco per i saluti del caso però davvero ve lo consiglio perché è una storia deliziosa di un piccolo rinoceronte che viene rapito in realtà è una rinocerontessa esatto esatto una femmina una rinocerontessina che non so come si traduca in tedesco la rinocerontessina è un scioglilingua però Clara è esistita davvero c'era un dono coloniale e io su Clara ho inventato una favola cioè devo dire che è una favola ma si basa su una rinocerontessa purtroppo portata qui come fenomeno da baraccone e come dono coloniale e ho aggiunto nel libro due bambini una bambina ebrea e un bambino afrodiscendente schiavo a Venezia e tu mi hai detto prima avevo ok ho i tratti veneziani in realtà teoricamente avrei dei tratti portoghesi perché gli avi sono stati anche portoghesi oltre che somali e però Venezia è stata una città importante per me e devo dire che questo libro nasce dalla mia permanenza a Venezia una Venezia non da cartolina ma una Venezia che dobbiamo salvare tutti insieme narrandola in modo diverso perché anche Venezia ho scoperto è in qualche modo raccontata in modo stereotipato voilà io a questo punto ti ringrazio moltissimo per questa tua generosità e saluto veramente tutti voi che ci avete ascoltato all'ascolto e lascio la parola a chi chiuderà questa conversazione grazie eccoci qua allora nell'ultima parte della nostra conversazione Ijaba ha usato una parola importante sprovincializzazione credo che se non altro dovessimo riassumere una parola al contributo di Ijaba Scegora la cultura italiana non solo letteraria è in questo momento questo cioè l'Italia partecipa di un dibattito che va oltre i propri confini e ci insegna che in fondo il nazionalismo è inquadrare sempre tutto sotto categorie nazionali non ci aiuta tanto in tantissime occasioni d'altro canto tutto questo discorso sulla memoria sul mettere in discussione il proprio passato è un argomento che parla molto a questa città la città in cui siamo dicevamo subito prima di cominciare proprio con Enrico Ijaba ed Elisabetta che forse la storia di Monaco ha avuto così altre cose che hanno schiacciato il passato coloniale però insomma il rapporto con il passato rimane un tema veramente decisivo e veramente così non solo non esaurito ma per certi aspetti ancora da cominciare in molti suoi aspetti d'altro canto l'incontro di oggi ci dice quanto in fondo sia varia la scena della letteratura italiana tant'è che domani trattiamo di un libro completamente diverso che è Addio Fantasmi di Nadia Terranova non mi resta che ringraziare veramente sentitamente Ijaba Scego Enrico Manera Martina Chiderle la nostra interprete Elisabetta Cavani per aver organizzato e soprattutto tutti voi che avete partecipato a questo incontro grazie e buona serata a tutti